Se hai riscontrato problemi riguardo a collegare così il controller sul gioco Black Meat Wokong, in questo caso è possibile risolvere il problema attraverso gestione dispositivi periferiche di gioco e soprattutto anche su Bluetooth dispositivi dispositivi. Quindi in questo caso iniziamo prima ad andare su gestione dispositivi, tasto destro su Start qua sopra, vai su gestione dispositivi, scendi fino a giù fino a trovare così le tue periferiche, come puoi vedere io ho collegato così la mia periferica Xbox 360, controllo Xbox 360 per Windows, quindi in questo caso vai su aggiorna driver, quindi tasto destro sopra, cerchi driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili. Io metto questo, faccio avanti e installo così il driver per il mio controller. occorre riavviare il computer, quindi in questo caso se non funziona il controller sul gioco devi aggiornare i driver della tua periferica. Se non dovesse funzionare andiamo un attimo su configura dispositivi di gioco USB periferiche di gioco. Questo è il mio controller, quindi in questo caso come puoi vedere il controller vado ad attivarlo e funziona. Quindi l'analogico qua funziona, il controller funziona perfettamente. Vai direttamente su avanzate e scegli così il controller da inserire su periferiche di gioco e fai ok. Se non dovesse bastare, ritorniamo un attimo su gestione dispositivi. Puoi semplicemente disabilitare il dispositivo e abilitarlo. Se no, disinstalla il dispositivo e riavvia il tuo computer. Entra di nuovo su gestione dispositivi e reinstalla il dispositivo del tuo controller. Ora andando su Bluetooth e dispositivi scendi fino a giù ed eccolo qua. Configurazione incompleta, quindi mi dice riavviare il computer. Puoi semplicemente rimuovere la tua periferica e inserirla di nuovo e poi riavviare il computer. Quindi faccio direttamente rimuovere. Rimozione del dispositivo. Ora tolgo così la chiavetta wireless del mio controller. La rimetto di nuovo. Ed ecco che si è abilitato il controller per Windows. E adesso non mi resta che entrare sul gioco per farti vedere il controller funziona. Come puoi vedere il gioco funziona perfettamente con il controller. Mi muovo qua, colpisco qua e funziona. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!